Salve amici del Centro Medio Italiano, instabilità pomeridiana sempre presente con temporali anche intensi specie sui rilievi. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 24 maggio. Locali piogge al mattino su Alpi Occidentali, Lombardia e Veneto, tempo più asciutto altrove con nuvolosità irregolare alternata ad ampie schiarite. Al pomeriggio acquazzoni e temporali informazioni su Alpi Appennino ma con coinvolgimento anche delle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna piasciutto con cieli sereni o poco nuvolosi lungo le coste. In serata e inottata residui piogge su pianura padana e zone interne del centro, variabilità asciutta altrove, temperature minime e massime stazionarie e un lieve aumento da nord a sud. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.